Quello sta tremando! oh di gru no ma vabbaculo scappa coglione è guerra ormai e ciao a tutti ragazzi qui tundering light e oggi siamo tornati su spore nell'episodio precedente eravamo rimasti che avevamo finito la parte cellula e dovevamo passare alla base creatura è l'alba di un nuovo giorno e per te l'inizio della vita è il nuovo bizzarro e meraviglioso mondo l'aria ti riempie i polmoni mentre adunghi gli arti nella tua nuova casa la terraferma l'evoluzione della specie ha avuto inizio si lo so come funziona grazie si ok si ok so come si fa si lo so ora direi di farlo andare e di incontrare una nuova specie vediamo qui mi sfira ehi forza vai che cosa sono questi cosi? sono dei vermi oddio quanto sono brutti fate bene spaventarvi io vi ammazzo un altro sì lo so come si interagisce con le specie però no è troppo brutto no è troppo brutto no è troppo brutto ora si nonno grazie ok perfetto direi intanto di mangiare il suo cadavere eh poverino comunque direi intanto di far estinguere la tua specie ok mangia così ti recuperi la salute ok e adesso e la cosa è gigante perfetto sto provando un sacco di resti di creatività che non so come siano perchè in così poco tempo si sono accumulati questi fossili quindi ma seriamente vabbè vediamo un attimo e la madonna ok si però ah si sono spostati di nido li avete capiti? ecco quelli due rack vediamo e la questi mi ispirano dai hanno pure il coso dello sputo quindi dai ci facciamo inizia è un impressionato non deve impressionare altri lube dov'è con l'alto? no l'alto è lui perfetto andiamo a impressionare con l'alto qua perfetto ora abbiamo una specie areata e già ce l'ho in buono la tac ma creature più carine no no questi sono dei vermi sembrano troppo dei vermi ammazzo quell'alto qua ti uccido dai quello sta tremando ok però mi spiace non sempre a morire perfetto ora curati ciao ok mi manca uno e faccio extinguere una specie perfetto va diventando sempre più intelligente rispetto a riccardo ora direi di fare amicizia con un'altra specie perché stiamo puntando di più verso il carnivore verso il predatore voglio dire quindi no grazie forza seguimi tutto l'alto sì ma di preciso dove è che stai andando prima aspetta 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 allora a me piacciono le crocchette tipo le nugget quindi magari se vi fate mangiare vi fate per un favore ok bravo mangia così ti curi e ora andiamo ad uccidere anche quell'altro la madonna in seguito non scegliamo oh dio santo perfetto perfetto e abbiamo appena fatto estinguere un'altra specie ancora erano buone le crocchette di bolo proviamo a fare l'amicizia con quello che sembra solitario lei da scusi for that grazie No quello ci serve Dai questo è forte Siamo al suo stesso livello Ma seriamente Ok forse no Grazie a tutti Aspetta Non mi arrendo Maledetto Ok fino a qua Perché non funziona Vabbè niente Andiamo nel giro Ok magari ora più veloce Dai salta forse Sì però Vai a mangi avanti Non ci serve Non ci serve Non ci serve Non ci serve prendere i fossili dei tipi che c'erano prima quanti bei fossili giganti 4 di ballo? seriamente? oh madonna cos'è? non voglio morire non voglio morire no madonna ballo 5 velocità 4 siamo seri pun pun questo è il pun pun alfa forza uccidiamo oh di trucco no ma vabbè l'astronce l'uri di schifosi 5 pun pun no ma questi sono fazzi ma cosa si sono fumati quelli da come on E uno è morto Uno è morto Uno l'abbiamo ucciso Moriremo tante volte Però uno l'abbiamo ucciso E' già qualcosa no? Sì, sì, non fate con la faccia arrabbiata Neanche lo meritate Cacchio mi guardo Questi sono più facili da ammazzare E uno l'ho ucciso Ancora Mi hanno ucciso il membro del gruppo Questi stronzi Sì, si vaffano così Perfetto Andiamo ad uccidere quegli stronzi Forza Sì, sì, non fate con la faccia ancora più arrabbiata Che tanto vi distruggiamo male Ma vedete Ma aiutami inutile Essere inutile Compagno del cacchio Mi doveri seguire Aiutare Brutto strozzo Andiamo al loro nido Stavolta segui però Stavolta segui Sì, ui, ui Scappa coglione! Ma non c'è un membro del gruppo, vaffa il culo! No, dai raga, dobbiamo riuscire ad ucciderli in qualche modo, non è possibile Un altro Non è possibile che quelli ti ammazzano in gruppo, non è possibile Forza Madonna Madonna Oh, guarda qui è buono Grazie 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 Andare Una per morire vaffantino non esaltatevi perchè ora mi stanno andando a ammazzare male perchè ancora la guerra non è finita vi distruggerò tutti schifosi maledetto che cacchio te scappi muori e un altro è fatto fuori avanti uccide ma ne ho ucciso un altro dai raga li dobbiamo uccidere è guerra ormai muori maledetti no no non me ne prega niente io li vado a uccidere ma malissimo ce ne manca uno e li togliamo di mezzo e otteniamo pure 30 punti di DNA perchè mi troppo il forte e c'è Sì, ecco, in cima non me ne frega niente, perché guardate. Sì, ce la posso fare! Sì, ce l'abbiamo fatta, le gare, le abbiamo distrutti! La razza Astrafteros ha distrutto quelle creature brutte. Il cervello si è ulteriormente sviluppato, sminuendo quello di Riccardo. Un altro passo avanti verso lo stadio sensiente. Ora la testa e statura sono aumentate, ora c'è posto per qualcun altro nel gruppo. Finalmente! Quindi direi intanto di tornare nel nido base, dove potremo far entrare un altro della nostra specie nel gruppo e dove potremo aggiungere finalmente qualche parte bella a questo coso qua. La Madonna e il barlo! Ok, ora che siamo tre membri, si può dire in un gruppo solo, direi che già intanto per questo episodio abbiamo fatto abbastanza, ma comunque potremo andare a fare amicizie anche con altre specie, dato che abbiamo l'abilità di ballo livello 4, quindi già è tanto. Sì, penso proprio che possiamo concludere, sapete, quindi salva, via. E quindi niente, per questo episodio penso possiamo concludere qui. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, se volete seguitemi anche nei social che trovate qui giù nella descrizione, inoltre se volete iscrivetevi, che tanto mi fate un favore, commentate, che vi ringrazio. Comunque vi ricordo di attivare anche la campanellina delle notifiche per restare sempre informati su tutti i video che pubblicherò nel canale. E quindi niente, da Tunneling Light è tutto, al prossimo video! Ciao!